Chiediamo al nostro santo intercessore, fedele a Dio, ha accolto il Signore nella dimensione della croce, lo ha servito, diventando per tutti, come diceva San Paolo VI, il rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. La sua intercessione ci accompagni, ci ricordi che solo nella fedeltà alla parola del Signore si realizza la bellezza e la totalità della nostra vita di fede. Chiediamo che sia per tutti noi, davanti al trono del Signore, colui che ascolta anche le nostre invocazioni, ma soprattutto colui che chiede al Padre che la forza del suo spirito accompagni il nostro pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è lungo, abbiamo momenti di stanchezza, di paura, vorremmo fermarci, forse vorremmo tornare indietro perché a volte la meta ci sembra troppo lontana. E il Signore ci manda i nostri tifosi, i Suoi Santi, che lungo il cammino ci spronano ad andare avanti, perché c'è il luogo in cui incontreremo e vivremo della gioia e della bellezza del volto del Signore che qui cerchiamo e un giorno vedremo così come Egli è.